Buongiorno a tutti, nei prossimi minuti ci occuperemo di un tema interessante tra gli altri nell'ambito dei disturbi respiratori in sonno, cercando di rispondere alla domanda quando è necessario, utile, conveniente, ricorrere alla chirurgia anziché utilizzare altri metodi di terapia. Il mio nome è Claudio Vicini, sono un otorino laringoiatra, un neurologo e un audiologo, sono formato per eseguire interventi che vengono definiti di roncochirurgia, quindi che si occupano di cercare di risolvere i problemi di russamento apnee e comunque i disturbi respiratori in sonno. Queste le mie disclosure, da tempo mi occupo e collaboro attivamente con molte aziende nella messa a punto di dispositivi e metodi di trattamento delle apnee. Lavoro a Forlì, dove è nato Giovan Battista Morgagni, che è il padre della moderna anatomia patologica, ma in fondo il padre della moderna chirurgia. La moderna chirurgia si ispira alla profonda conoscenza delle alterazioni patologiche dei pazienti. La chirurgia delle apnee non è una chirurgia che nasce del tutto recentemente. In questa sintesi, a cura del professor Enrique Kezziria, uno dei guru della roncochirurgia nordamericana, viene preso in considerazione gli anni fra il 2000 e il 2006, in cui un numero estremamente significativo riportato in questa tabella di procedure sul palato, sull'ipofaringe, sulla base lingua, sul genio glosso e sullo ioide, vengono eseguiti negli Stati Uniti sia in ambito di ricovero sia in ambito di procedura ambulatoriale. Uno sguardo alla letteratura, qui aggiornata fino al 2018, mostra un numero estremamente rilevante di contributi, incentrati in termini più dettagliati principalmente sul palato, ma ancora sulla lingua, molte le procedure bariatriche recensite, new entry la chirurgia della stimolazione dell'ipofilosso, poi l'avanzamento bimacellare, la multilivello e ultima in ordine di tempo, ma non di finezza tecnologica, la chirurgia robotica. Perché proporre una terapia chirurgica in sede di parti molli, quindi nel contesto di una professionalità ORL? Perché C-PAP? Perché ora l'appliance? Perché dieta? Perché tutti gli approcci conservativi condividono una percentuale superiore a 0 di nota septans, una percentuale superiore a 0 di insufficiente compliance, una percentuale superiore a 0 di inefficacia, una percentuale superiore a 0 di dropout. Quindi c'è posto anche per soluzioni alternative. D'altro canto le chirurgie respiratorie hanno dimostrato sul campo in tutto il mondo la loro fattibilità e la loro sicurezza. Appaiono dati alla mano ragionevolmente efficaci, se lo vedremo. Sono comunque provvedimenti single shot. Il paziente si opera e può per lungo tempo dimenticarsi dei suoi problemi. Non richiedono per questo aderenza del paziente al trattamento e fortunatamente in tutto il mondo, ma in Italia sicuramente, sono relativamente accessibili in molti centri, quindi alla portata della maggioranza dei pazienti. La tesi fondamentale numero uno è che la chirurgia offre opzioni terapeutiche ulteriori e aggiungo complementari a tutti coloro che si occupano di disturbi respiratori in sonno, dal simple snoring all'apnea all'ostridore, offrendo quindi al cultore della materia risorse addizionali. Slegano cioè le mani a coloro che, lavorando con altre modalità, ricercano soluzioni ulteriori perché i pazienti quelle già offerte non le hanno accettate o ne sono rifugiti. La tesi fondamentale numero due, questa è importante, è che le numerose tecniche chirurgiche che si sono accumulate nel tempo hanno differenti indicazioni ma condividono una logica ragionata di scelta e quindi questa logica è possibile e deve essere rispettata nella scelta. Quindi il chirurgo non agisce a occhi chiusi ma agisce ragionatamente. La terza tesi fondamentale è che la terapia chirurgica è efficace in molti pazienti purché correttamente selezionati e anche l'ambito dell'apnea grave in soggetti anche obesi può offrire spazi di manovra al chirurgo purché i casi vengano opportunamente selezionati. La tesi numero quattro è la comprensione del rapporto fra efficacia e compliance o uso dei provvedimenti. La CPAP sicuramente vanta una percentuale di successo vicina al 100% ma paga lo scotto di una compliance di un uso reale che sovente è molto inferiore al 100% fra il 40 e il 60%. Per contro tutte le chirurgie invariabilmente non hanno problemi di compliance perché una volta eseguite esplicano la loro attività ma la loro efficacia non raggiunge mai i valori della CPAP o di altri provvedimenti di natura conservativa. L'area in comune rappresenta quello che è la plusvalenza e fa capire come nel caso di insuccesso di CPAP, MAD e terapie posizionali la chirurgia possa e debba giocare il suo ruolo. Quali sono gli elementi che orientano fortemente verso una soluzione chirurgica che può essere quindi offerta più facilmente ai nostri pazienti? Prima di tutto il paziente che deve essere trattato perché è grave, è sintomatico e richiede un trattamento ma rifiuta a priori tutti i trattamenti conservativi. Egualmente un paziente che proviene da un insuccesso delle terapie conservative pur condotte correttamente. Infine il paziente richiede esplicitamente una soluzione chirurgica perché a lui più gradita. Ci sono elementi che possono orientare verso una soluzione chirurgica, non sono tassativi ma sono evocativi di una superiorità della chirurgia. Questo è il caso del paziente giovane che è più probabile che nel corso della sua vita possa lasciare la terapia conservativa, non voglia accettare un lungo asservimento a provvedimenti esterni. Il paziente è scarsamente motivato oppure il suo profilo di personalità lascia per esagire un improbabile compliance nel lungo periodo. Il paziente chirurgico ottimale deve avere un basso rischio anestesiologico e il rapporto tra efficace complicanze e effetti collaterali deve essere vantaggioso. Per contro è sconsigliabile la chirurgia in soggetti ad elevato rischio operatorio, ugualmente si sono psicologicamente instabili, pazienti poco sintomatici sono scarsamente motivabili, ugualmente a rischio sono coloro che lavorano con la voce che può essere modificata per esempio dalla chirurgia e infine quei casi in cui il rapporto tra attesa di successo e percentuale di rischio è sbilanciato. Di fatto il paziente perfetto è un soggetto sostanzialmente giovane, meglio se non sovrappeso o obeso, sintomatico, fortemente motivato, stabile dal punto di vista psicologico, magari proveniente da insuccessi conservativi, con scarsa comorbidità che aumenta il rischio anestesiologico, con un profilo che noi chiamiamo fortemente anatomico, quindi modificabile, per il quale l'intervento può essere proposto con un'alta attesa di efficacia, un basso tasso di complicazioni e ugualmente un basso rischio professionale. Oggi si parla sempre di più di medicina personalizzata e la personalizzazione ha coinvolto anche l'ambito dei disturbi respiratori in sonno. Da questa diapositiva della professoressa Bonsignore si evince la complessità dei fattori in gioco, tra i quali l'attività muscolare che contrasta il collasso e l'anatomia patologica, ristrettezza delle vie respiratorie superiori che sono il nostro target chirurgico. Oggi si cerca di lavorare sempre di più, oggi e in futuro auspicabilmente, in una terapia personalizzata, cercando di superare il concetto base che va alla chirurgia, va a altre modalità, tutto ciò che fallisce il ventilatore. Questo è vero in molti casi, ma è probabilmente vero, ugualmente, che alcune modalità alternative possono fin dall'inizio essere proposte ai nostri pazienti, se i pazienti sono selezionati accuratamente. Tutti i pazienti con OSAS condividono un'anatomia patologica, una via respiratoria ristretta e collassabile. Questo determina una serie di ripetute ostruzioni respiratorie. In un terzo dei nostri pazienti sono presenti anche fattori di natura funzionale, come inefficacia della muscolatura dilatatoria, un sistema di controllo ventilatorio instabile, una bassa soglia di arousal. La endofenotipizzazione, come invariabilmente si dice, consente di identificare cause anatomiche, che sono quelle che abbiamo già visto, che hanno un loro catalogo di trattamenti, che includono il calo ponderale, la terapia posizionale, la chirurgia di oral appliance e situazioni non anatomiche che vantano una sola opzione chirurgica, che è quella del trattamento con stimolazione dell'ipogloss. Quindi quelle che vengono ora messe in evidenza sono quelle anatomiche tipicamente chirurgiche, mentre in casi selezionati la cattiva risposta della muscolatura faringea può essere antagonizzata dalla stimolazione del nervo ipogloss. Le modalità con le quali il chirurgo approccia il paziente possono essere tecniche di resezione o di riduzione di volume, possono essere tecniche di stimolazione, possono essere tecniche di stabilizzazione o sospensione. Sono i dettagli che il chirurgo adotta per superare due grossi problemi fondamentali che possono essere visualizzati dal chirurgo. La presenza nelle vie respiratorie di un'ostruzione meccanica, la registrazione di una riduzione del diametro delle vie respiratorie per collasso delle pareti, che sono rappresentate in maniera immaginifica da questo masso e da questo crollo della miniera. In ogni singolo caso c'è una variabile combinazione di ostruzione di collasso e per ognuno di queste situazioni noi dobbiamo usare lo strumento chirurgico adatto. Voi non berreste il brodo con una forchetta, così noi adattiamo il nostro strumento chirurgico alla situazione patologica che dobbiamo correggere. Ogni paziente è diverso dall'altro. Ci sono molte condizioni, questi sono tutti pazienti reali che ho incontrato nella mia esperienza. Ognuno di loro ha una storia diversa e noi possiamo classificare le procedure in procedure che si indirizzano al simple snoring, procedure ideali per l'apnea da lieva moderata, situazioni chirurgiche ideali per la chirurgia severa. E ognuna di queste situazioni, uno di questi scenari ha regole e leggi diverse in ambito chirurgico. Esistono cinque opzioni basiche in ambito chirurgico, la chirurgia minimamente invasiva ambulatoriale, la chirurgia del palato, la chirurgia multilivello, la chirurgia della base lingua e la chirurgia di stimolazione del nervo ipoglossum. L'ultimo scenario, qui occorre identificare la possibilità maggiormente costo effettiva. Lo snoring non è un problema fisico diretto, ma può avere un impatto devastante sul partner di letto. Il partner di letto può essere disturbato in maniera significativa, la sua qualità della vita è devastata, quindi trattare il simple snoring è comunque un dovere sociale, oltre che sanitario. Se io vado a valutare le offerte chirurgiche in questo che per esempio è uno dei manuali più popolari al mondo di roncochirurgia, vedo che non basta una pagina dell'indice, ce ne occorrono due e sono numerose le procedure proposte. Molte procedure significa che nessuna è realmente superiore alle altre. Le procedure per lo snoring hanno un problema comune che dopo un tempo più o meno lungo, diciamo in questo caso da una review dettagliata dopo i 31 mesi purtroppo lamentano circa un quarto di relapse, un quarto di recidiva, e quindi ci dobbiamo confrontare con questa realtà. Per questo motivo sono nate nuove procedure, una tra le ultime è la iniezione di sostanze sclerosanti che rigidiscono il palato e che possono essere ripetute più volte in maniera modulare. In ambito italiano si usa, non senza difficoltà, la tossi scleror che è uno dei farmaci più utilizzati. Facendo una sintesi della chirurgia ideale per il simple snoring, si indirizza a pazienti numerosi, devono essere gestiti in ambito ambulatoriale, in anestesia locale, la procedura deve essere facile e minimamente invasiva, possibilmente low tech, veloce da applicare, di efficacia immediata e pertanto ben accetta dal paziente. Ovviamente si auspica una procedura sicura, economicamente vantaggiosa, la più efficace possibile nel tempo ma nel caso ripetibile. Questo rappresenta l'ideale per lo snoring. Se entriamo invece nella posizione da lievi a moderate, lo scenario 4. Qui la sfida è competitiva rispetto agli occhi e se sì, qual è la più adatta procedura per il singolo paziente? Sicuramente la risposta è facile, la chirurgia multilivello. La chirurgia multilivello che tratta naso, palato e base lingua è sicuramente l'emblema della ricostruzione chirurgica delle vie respiratorie superiori. Quello che noi facciamo chirurgicamente è di ricostruire, ripianificare la morfologia e la funzione delle vie respiratorie superiori. Lo facciamo con una chirurgia funzionale del naso di vario tipo, quella che è necessario applicare, lo facciamo con una chirurgia targetizzata e sempre meno aggressiva sul palato, non più l'uvulo palatoplastica, se necessaria la tonsillettomia, oggi ISP e BRP che sono le due procedure di scelta. La chirurgia del palato ha subito una metamorfosi fondamentale negli ultimi anni, si è passati dalle tecniche ablative alle tecniche ricostruttive e tra le tecniche ricostruttive dopo il 2010 si è affermata sicuramente in tutto il mondo la tecnica basata sull'impiego di suture barbute, barbed reposition faringoplastic. Questa è una rappresentazione delle sedi dove il ronco chirurgo è chiamato ad agire ed è chiamata ad agire sia sul rivestimento mucoso, che sulla muscolatura, che sul tessuto linfatico, che sul grasso laddove è presente in molte aree. Quello che conta è che oggi stiamo vivendo la rivoluzione palatale del 3D, non più resezione in 2D ma ricostruzione in 3D. Questo è il verbo attualmente accettato. E sempre più l'attenzione si rivolge alla parete laterale, sempre più è una chirurgia di riposizione muscolare piuttosto che di resezione, sempre più chirurgia tridimensionale. L'antesignano di questa chirurgia è questo signore, Michel Kali, che ha introdotto la faringoplastica laterale. Hanno seguito questa indicazione i due amici di Singapore e di Milwaukee, Tucker Woodson e Kenny Pang, che hanno convertito in una modalità meno aggressiva, simile alla soluzione di Yuxei Li di Taiwan. Infine, la proposta italiana, la Barber Reposition Faringoplasty, nasce da un'idea del professor Mantovani per il russamento e viene dal nostro gruppo trasformato in una chirurgia fortemente efficiente sulle apnei. Quello che conta è evitare gli errori delle prime chirurgie, chirurgie resettive, chirurgie che inducevano una retrazione cicatriziale circolare, centripeta, che quindi raserrava nel lungo periodo le vie respiratorie e vanificava i nostri sforzi. Oggi si parla di chirurgie che aprono, chirurgie che hanno una tensione laterale e che quindi mantengono aperte anche a distanza le vie respiratorie. Abbiamo per tanti anni utilizzato e raccolto grosse esperienze anche nella chirurgia dello ioide, che è stato un supporto importante per quel che riguardava il trattamento dell'area ipofaringea. Esistono invece delle modalità chirurgiche che ho scherzosamente denominato giurassico, quindi obsolete, e queste ovviamente non vengono più utilizzate. Ci spostiamo rapidamente nello scenario della apnea severa. In questo caso la domanda è, è la chirurgia realmente efficace e se sì è accettata dal paziente? Esistono diverse valutazioni in questo senso, esistono valutazioni restrittive come quella diverse di Orman che riservano il trattamento agli insuccessi pieni della chirurgia, del trattamento ventilatorio o comunque conservativo. Esistono in realtà tecniche come l'avanzamento maxillomandibolare assolutamente efficienti. I dati raccolti in diversi contributi in letteratura che abbiamo sintetizzato con l'amico Rester Marrone in questa revisione, ormai datata ma ancora attuale, è che anche in soggetti senza anomalie facciali maggiori l'avanzamento mandibolare può essere un ottimo provvedimento anche first line. Abbiamo dimostrato con un prospettico randomizzato controllato in uno studio che ancora recca con grande piacere per noi, con grande fierezza il nome del professor Lugaresi, che abbiamo potuto confrontare l'efficacia del bimacellare con la C-PAP, con una randomizzazione vera, con la valutazione di non inferiorità in termini di riduzione di apremi open index e di scala di apples. Quindi abbiamo potuto documentare che l'avanzamento bimacellare è un provvedimento chirurgico di sicura efficacia. Oggi abbiamo tante soluzioni che la tecnologia propone, cercheremo di passarne in rassegna solo alcune. Prima di tutto la chirurgia robotica che ha costituito una rivoluzione vera per tutti noi. La chirurgia robotica rappresentata in questo cartoon è una chirurgia computer assistita di natura endoscopica. Si lavora dentro la bocca del paziente, si raggiunge la base lingua e si riduce il volume della base lingua consentendo al paziente una migliore respirazione nei casi in cui questo è necessario. Abbiamo pubblicato molto su questo argomento, da una prima serie del 2008 alle seconda e terza serie, rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Oggi esistono in realtà moltissime pubblicazioni che rivedremo in dettaglio più avanti. La chirurgia TORS, transorale, rispetto a quella convenzionale, è una chirurgia occulta, una chirurgia nascosta. Non ci sono cicatrici sul collo perché la chirurgia avviene per via transorale. Ed è una chirurgia SMART che colpisce direttamente la base lingua senza aprire il collo andando a colpire il bersaglio che è proprio l'eccesso di tessuto basilinguale. Abbiamo descritto questa tecnica in dettaglio oggi è disponibile nella grande maggioranza dei centri di tutto il mondo. Questo è uno schema molto semplificato, questa è una basilingua esuberante prima dell'intervento, questa è l'intervento in corso in cui abbiamo rimosso la parte destra della basilingua, qui abbiamo completato il lavoro sulla basilingua e infine abbiamo rastremato l'epiglotide. Vedete che lo spazio respiratorio guadagnato è notevole. Abbiamo studiato questa tecnica in un ambito multicentrico, questa è la nostra prima uscita in 243 pazienti trattati in tutto il mondo, erano soggetti di media età, sovrappeso, sonnolenti, con apnea severa, con desaturazione significativa ma con distanza interincisiva sufficiente ad accedere all'area chirurgica. Abbiamo potuto dimostrare come la procedura fosse anche rapida nella sua esecuzione. 20 minuti di setup, meno di mezz'ora di lavoro di console, pochi minuti per l'epiglottide, diciamo che il tempo chirurgico complessivo è assai più lungo per naso e palato di quanto non sia per la basilingua, quindi il contributo temporale della basilingua robotica è il contributo minore, con risultati eccellenti, statisticamente fortemente significativi in riduzione di apnea popere index, desaturazione e di sonnolenza a tre mesi minimi dell'intervento. Lo scoto da pagare in termini di complicazione è fortunatamente modesto, in circa l'80% non si registrano complicazioni, quelle che si registrano sono modeste e non significative. Entriamo però a gamba tesa nell'era della stimolazione del nervo ipoglosso, una grande promessa, promessa che si sta progressivamente mantenendo. Qui vedete un video che dimostra cosa accade se noi stimoliamo il nervo ipoglosso, siamo in grado di spostare in avanti fortemente la basilingua e liberare le vie respiratorie. Questa è un'evidenza molto eloquente in termini visivi di quello che accade durante la stimolazione. Esistono diversi tipi di stimolatore, non entrerò nel dettaglio, dirò semplicemente che il dispositivo commercialmente proposto da Inspire è quello che attualmente è più diffuso in tutto il mondo. Molto interessante la nuova proposta di Nixoa che sta uscendo dalla fase sperimentale e sta entrando in una fase assolutamente pratica con grande livello di innovatività. Molto importante è la selezione dei casi per questa modalità che è molto costosa. Diverse tecnologie hanno criteri, regole di ingaggio leggermente diverse. Certamente queste regole si stanno ampliando. La valutazione è stata fatta su lunghi periodi e su un numero significativo di pazienti. Quello che noi possiamo dire è che dopo 60 mesi l'apneopnea index rimane significativamente basso, così come gli altri parametri decretano un successo stabile nel lungo periodo. È stata fatta anche una valutazione molto interessante pubblicata sul New England in cui è stata fatta una sorta di randomizzazione. Il soggetto che si avvantaggiava dello stimolatore è stato valutato a 12 mesi e poi è stata randomizzata lo spegnimento del dispositivo e si è osservato come nei soggetti in cui il dispositivo veniva spento si ritornava ad un livello di apnei fortemente significativo. Quindi la stimolazione dell'iboglosso è efficace ma ancora una volta si sottolinea l'assoluta necessità di selezionare bene i pazienti perché nonostante gli stretti criteri di inclusione un terzo dei pazienti continua a non rispondere a questo tipo di tecnologia e quindi deve essere perfezionato il nostro modalità di selezione. Oggi siamo entrati nell'area della medicina basata sull'evidenza e quindi porterò rapidamente in rassegna molte evidenze sulla utilità della chirurgia in supporto della CPAP. Questi sono dati estremamente numerosi e significativi che dimostrano come la chirurgia nasale sia estremamente utile per incrementare la compliance della CPAP e ce n'è bisogno. Come la tonsillectomia possa da sola essere un provvedimento estremamente efficace, sono stati fatti studi metanalitici estremamente numerosi e probativi con un spostamento del diamante sia per quel che riguarda la Pnei Popnea Index che l'EpoScale nettamente significativa. Evidenze sono state finalmente raccolte anche se tardivamente sull'uvolo palatofaringoplastica dal gruppo svedese di Nanna Bronwald. I dati anche qui sono rilevanti per numero e per metodologia e sicuramente i risultati sono eccellenti. È stato fatto anche uno studio addizionale dallo stesso gruppo sull'impatto sulla sonnolenza e la qualità della vita sempre con uvolo palatofaringoplastica modificata con risultati statisticamente molto significativi ed eleganti. La expansio sphincterfaringoplasti è stata essa stessa sottoposta al vaglio della medicina basata sull'evidenza e su un numero più limitato di casi ha dimostrato la sua assoluta efficacia. Stessa cosa è successo per l'eglosectomia in senso generale. Qui riportiamo una meta-analisi del gruppo di Boyd-Gillesby che riporta ancora una volta un numero molto rilevante di lavori dai quali si evince che in generale lavorare correttamente sulla base lingua determina un grosso risultato dal punto di vista oncologico. Da ultimo la chirurgia transolare robotica. Anche qui ci sono numerosi contributi di revisioni sistematiche e meta-analisi. Questa è la meta-analisi di Austin che riporta i primi lavori tra i quali anche i nostri personali con risultati significativi anche se non eccellenti. A stessa cosa è stata estesa per la mini-tracheostomia è stata una sorta di rilegittimazione della tracheotomia da sempre proposta e vorremmo concludere con alcuni elementi che riportano l'importanza della chirurgia anche come provvedimento first line. Questo è un lavoro classico ormai di Brian Rothenberg che ha potuto valutare, non entro nel dettaglio, come i dati comparativi possano consentirci di dire, siamo ritornati sullo stesso argomento con un secondo contributo in parte anche personale, riconsiderando la chirurgia come un first line treatment possibile e dato evincibile da una revisione sistematica della letteratura con dati estremamente significativi su questa affermazione. Infine gli aspetti economici sempre più importanti, il compianto Christian Guilleminot ha potuto rimarcare il rapporto costo-beneficio sicuramente interessante in soggetti di medietà trattati chirurgicamente e reflui dal trattamento con C-PAP per apnea severa. Questo è il grafico che dimostra come la loro gestione possa essere più conveniente con la chirurgia piuttosto che con la C-PAP. Ringrazio tutti dell'attenzione, è stata una lunga e veloce cavalcata ma è un ambito che si sta espandendo velocemente e il mio intendimento era quello di fornirvi un aggiornamento il quanto più ampio possibile e quindi vi ringrazio nuovamente dell'attenzione.